È frequente che molte persone non mettono la barca in rimessaggio durante l'inverno e quindi praticamente lasciano la barca in acqua. Bene, secondo me, il mio modesto parere è una gran cazzata perché ovviamente lasciare la barca in acqua tutto l'inverno la si lascia veramente in preda a 3.000 situazioni, dalle intemperie che vengono dal cielo alle correnti galvaniche, a tutto quello che il mare riserva alle nostre povere barche. Quindi uno dei consigli spassionati che vi do è a fine stagione, quando non usate più la barca, tiratela in secca, fatela lavare bene, fatela asciugare perché comunque la vetoresina è un po' porosa, quindi diciamo che in qualche modo non gli fa benissimo stare sempre in acqua e stare per un periodo anche di 4 mesi o 5 mesi in secca, no? Gli fa molto bene perché si asciuga e soprattutto gli evitate un continuo, diciamo, un continuo invecchiamento, ammaloramento perché non c'è bisogno e soprattutto riuscirete poi a vedere e a riparare tante cose magari per tempo. Per cui il mio consiglio è tirate sulle barche e mettetele di messaggio, fatele lavare perfettamente esternamente e internamente e fate tutti quei lavori di manutenzione con calma e vedrete che se la barca è in secca di lavori da fare ce ne saranno sempre qualcuno in più perché avete più tempo per vedere le cose che vanno e quelle che non vanno. Quindi come consiglio mettete la barca in rimessaggio tutti gli inverni per preservare il vostro prodotto sempre come nuovo. Ciao!